Tu hai vinto di recente un premio molto speciale, cosa ci puoi raccontare? Ho partecipato al concorso Miglior Allievo del Veneto, nella quale si sfidano 25 partecipanti del Veneto. Vengono selezionati 7 partecipanti, alla quale viene selezionata una tipologia, ad esempio la pasta fresca, nella quale sono arrivato primo. Adesso sto frequentando gli studi presso l'Eneip di Rovigo, sono al quarto anno al quale prenderò il diploma tecnico di cucina. Sei qui ad Alicanto per uno stage? Sì, sono qui dal primo di dicembre e continuerò fino a fine giugno. Quindi è Natale e troveremo te in cucina? Certamente. Grazie a tutti.